Tutti a tavola gli abruzzesi nella cena della vigilia e nel rito del pranzo di Natale, un momento tra i più sentiti dell'anno in cui si ritrova il senso della comunità e della famiglia. Il cibo comune, il mangiare insieme, la convivialità sono tutti strumenti della socializzazione. Rispettare poi la scelta di consumare cibi tradizionali e propri della nostra terra è l'espressione più autentica della memoria acquisita dalle generazioni precedenti, dai genitori ma soprattutto dai nonni. Il cibo tipico vede per la vigilia il menù di magro ovvero pesce e verdure perché un tempo la carne santificava solo le feste grandi dunque il giorno del Natale. Il cibo di magro era dunque il menù della quotidianità. Nove o sette le portate della vigilia e numerose le ricette che possono comporre il menù. Ogni famiglia rispetta alcune scelte personali ma su le tavole di tutti non mancano i fedelini con l'alicio col tonno, zuppe di cece e di fagioli, pesce imbrodetto, pesce fritto, baccalà, pesce marinato, la famosa scapece, sardelle fritte, capitone o anguilla, poi pasta lievitata fritta, verdure ed ogni specie e frutta a piacere tra cui di rigore l'uva secca, i dolci, calcionetti e poi il torrone. In alcuni paesi non si può fare a meno delle lumacche di terra. Il cibo tipico del pranzo di Natale è invece il brodo di gallina col cardone, tipica verdura selvatica dell'inverno. La carne santifica i giorni di festa e dunque sulle tavole degli abruzzesi non manca il giorno di Natale assieme a salumi e dolci di tutti i tipi, tarallucci e calcionetti, quelli più frequenti. Ancora oggi gli abruzzesi non rinunciano al proprio cibo, quello rituale, in un giorno santo che compie il miracolo più grande, quello almeno di riunire la famiglia davanti a un tavolo.